Ragazzi, allora, buonasera da tutti. Facciamo questo video di fine mercato, intanto vi ringrazio come sempre ogni anno che seguiamo le trattative, un po' meno quest'anno perché a un certo punto non volevo neanche più riportare nulla perché tanto era un discorso di smentire, di riportare una cosa e smentirla, cioè veramente pochi sapevano un po' cosa sta succedendo di fatto. Allora intanto diciamo subito che era una situazione difficile per tutti ma non è vero che le altre società non hanno fatto mercato anche perché le altre avevano comunque una rosa più completa rispetto a noi quindi i problemi e gli errori fatti in passato poi vanno ad accumularsi giustamente ed evidentemente anche sono andati ad accumularsi anche quest'anno. Il Real Madrid ad esempio ha avuto tanti rientri dei prestiti perché comunque hanno una cantera, il Barcellona comunque ha speso 70 milioni, poi il Liverpool ha speso 30 milioni per Alcantara, poi possiamo discutere i giocatori e quant'altro però di fatto le altre società non è vero che non hanno fatto mercato. Il Napoli ha speso 80 milioni per oggi ma in più Baccaioco adesso non so quanto è costato, l'Inter ha speso solo per Achimi 40 milioni, giusto per dirvi no. Il fatto è che le altre società avevano comunque più potere contrattuale perché anche in ambito cessioni venivano pagati i giocatori, invece da noi no. Detto questo non so se penso che per questo mercato lascerò, di solito facevo il mercato come avevamo fatto l'anno scorso di tutte le categorie, non ha avuto un gran risultato l'anno scorso quindi penso che non lo farò, però di tutti i campionati ovviamente. Partendo dalle parole di Andrea Agnelli, io parto da lì, dopo Juventus-Lione diceva, allora intanto facciamo una piccola premessa, io non volevo quest'anno e so che era difficile e so soprattutto e non pretendevo che la Juventus mi rivoluzionasse 11-11esimi ma neanche 5-11esimi, io chiedevo due acquisti, un attaccante per il posto Higuain può essere morata, poteva essere morata, e l'altro un centrocampista top a livello qualitativo perché McKennie è una scommessa, lui sì non chiesa, McKennie è una scommessa, ma ci serviva un giocatore che ci facesse fare il salto in qualità, che creasse superiorità numerica, McKennie queste qualità non le ha, McKennie è un giocatore che abbinato a un giocatore simile può fare bene, come ad esempio Vidal e Pogba, erano due centrocampisti che si completavano alla Juventus, infatti poi distanti dalla Juventus hanno avuto più difficoltà. giusto per dirvi. Quindi servivano questi due acquisti, Morata ad esempio, Morata, Suarez e Zecco, Morata io non è che volevo Morata perché Morata è un grandissimo giocatore, insomma è l'attaccante che io sognavo, però ho detto se mi deve arrivare un giocatore a zero o un giocatore a poco, ecco lì in attacco per completarmi il centrocampo, alzo le mani, alzo le mani e dico va bene, risparmiamo sull'attacco e il prossimo anno prenderemo un attaccante forte, con quei soldi, con i soldi risparmiati, però quest'anno andiamo a spendere sul centrocampo. Questa cosa non è avvenuta, quindi la mia speranza è stata vana. Poi abbiniamo anche le dichiarazioni di Andrea Agnelli, dopo Juventus-Lione quando parlava di Sogno che doveva trasformarsi in obiettivo Champions, con giocatori e con nomi da Champions League, l'unico nome che abbiamo preso veramente da Champions può essere Morata per quello che ha fatto in Europa, gli altri non sono nomi da Champions, Chiesa non lo è, Kulosevski, che vabbè è arrivato l'anno scorso, però vabbè leviamolo, McKennie non lo è perché può essere una grande scommessa ma non è un nome da Champions, ok? Un nome da Champions deve avere almeno, sì lui ha fatto sei presenze in Champions League, però deve avermi fatto una Champions League da protagonista, come l'ha fatta War, no? Poi per quanto riguarda Chiesa, vi ripeto, avrei speso quei soldi, avrei usato la stessa formula per prendermi un centrocampista con le caratteristiche che servivano a questa squadra, cioè un Depol, se non puoi prendermi a War, faccio un esempio, mi prendi il Depol che serve soprattutto, sicuramente di più di Chiesa. C'è chi dice, sì ma Pirlo gioca a due, Pirlo gioca a due perché è costretto a giocare a due, perché lui ha detto, oh, giocatori che sono più adatti a giocare a due. Poi non è vero neanche che gioca a due perché Ramsey fa la terza finta mezzala, fa la mezzala, fa l'esterno il centrocampo e fa il finto trequartista, cioè lui si occupa di quella parte lì. Quindi Ramsey anche lì non puoi però confidare e affidarti a un giocatore che è stato fino all'altro giorno soggetto infortuni, come è stato per Costa, no? Costa è un altro giocatore che, adesso, molti diranno, sì abbiamo sbolognato certi ingaggi, sì, però li hai dati in prestito, il prossimo anno li avrai ancora sul gruppone. E non è detto che qualcuno, che queste società che li hanno presi in prestito quest'anno, poi te li, ti arriveranno a bussare alla porta e te li pagheranno. Perché anche l'Inter, sotto questo aspetto, ha avuto anche l'Inter delle difficoltà quest'anno, sui ritorni che ci sono stati, come la Ingolland, ad esempio, che se non sbaglio alla fine non ha neanche trovato l'accordo con il Cagliari. Quindi, giusto per dirvi. E poi, appunto, Agnelli ha fatto queste dichiarazioni qui, no? Dei nomi da Champions. E poi, ragazzi, è stato un mercato che si può dire che ci sono state tantissime difficoltà, però è stato un mercato, ripeto, figlio di tutti i mercati precedenti. Cioè, da cinque anni che ci serve un centrocampista top e c'è qui su YouTube c'è gente che dà sette a questo cazzo di calcio mercato. Sette a questo cazzo di calcio mercato. Adesso arriviamo, ovviamente, però ai nomi e intanto poi arriveremo anche alla cifra totale. Allora, scusate perché c'è buio, giustamente. Allora, Arthur, che però a bilancio è andato a bilancio 30 giugno 2020, quindi lo scorso bilancio, comunque 72 milioni più 10 di bonus. Quelli che sono andati a bilancio quest'anno sono McKennie, 4 milioni e mezzo più 18,5 di riscatto più 7 di bonus. Correa, 10,5, Morata, 10 più 45, 10 quest'anno, però Chiesa, 3 quest'anno, 7 al prossimo, 40 di obbligo di riscatto più 10 di bonus. Mandragola, 10,7, però è stato ovviamente girato in prestito biennale all'Udinese. E poi le eccessioni. Pjanic, ovviamente bilancio scorso, però 60 più 5, Matuidi a 0, Iguaini a 0, Romero 2 più 16 di riscatto più 2 di bonus, Desciglio a 0, Prestito Secco, scusate. Costa, Prestito Secco, Moreno 10 milioni, scambio quasi alla pari con Coreia. Pellegrini, Prestito Secco, Piazza, Prestito Secco, Caviglia, Prestito Secco, Muratore, 7,5 e all'Atalanta ovviamente Rugani, Prestito oneroso di 1 milione e mezzo. Totale, totale, se non sbaglio, ho fatto anche il conto, vabbè, non mi ricordo, comunque il totale è tipo 18 milioni, 18, 17, 18 milioni tra cessioni e acquisti. In questo bilancio. Cos'è che vi dicevo a giugno? Cos'è che mi riportavano a giugno? Ve lo dicevo, eh, molti no, ma dai, ma non può essere così. Vi dicevo che la Juventus, senza calcolare acquisti e cessioni, aveva un budget di massimo 20 milioni. Tra queste cessioni, alla fine, quanto ha speso la Juventus? E molti mi hanno detto, ma no, ma non può essere, non possiamo avere solo così pochi soldi, nonostante questa situazione. La Juventus ha speso meno di 20 milioni di budget. Alla fine non avevo ragione. Ragazzi, alla fine avevo ragione, no? E questo è il discorso. Ripeto, le scelte, la chiesa non è neanche una scelta tecnica di livello, secondo me, perché è un giocatore discontinuo, un giocatore che comunque ti... Nei momenti clou, secondo me, sparirà. È un giocatore italiano, io sui giocatori italiani da 15 anni non ci andrei più, sinceramente. È un giocatore con poca personalità. Come ho detto, siccome molti di voi sanno la mia non crociata, però sicuramente non è il mio apprezzo e appoggio totale a Dybala, però ho detto chiesa, ecco, chiesa è proprio peggio di Dybala e quindi se devo scegliere tra Dybala e chiesa mi tengo Dybala. Però, al di là di questo, Dybala è rimasto, quindi anche la collocazione tattica non sarà facile, perché hai Kulusevski, hai lo stesso Dybala che può giocare, anche se dubito, quadrado, bernardeschi. Insomma, non hai... non lo so, non so. Cioè, poi 4,5 più 1 di bonus per 5 anni. Questo significa, vabbè, questo video su chiesa ve l'ho già fatto oggi. In generale non è stato un mercato che mi ha soddisfatto. Il voto del mercato, perché è quello che volete sapere. Il mio voto del mercato, calcolando tutto, tutto quello che vi ho detto, le parole di Agnelli, il mercato, i mercati passati, quelli che tirano fuori la scuola di quest'anno non capiscono un cazzo perché da 5 anni che lavoriamo così, di panza, con Ronaldo, con Iguain prima, con chiesa adesso, alla Fiorentina praticamente ovviamente noi abbiamo vietato il fallimento alla Fiorentina comprando due mezzi giocatori come bernardeschi e chiesa, che non significa che io chiesa non lo tifferò. Lo tifferò, spero che mi smentisca, ma questo non significa che a me qualcuno deve vietare di dare una mia opinione. Perché poi molti, su molti giocatori che ho tirato, che ho detto le opinioni prima, e molti mi hanno detto ma tu devi guardare il campo, poi questi qui non sono mica venuti a chiedermi scusa quando dopo 1, 2, 3, 4 anni si ho azzeccato su questi giocatori, che io abbia detto cose positive o cose negative. Nessuno? Nessuno. Poi sbaglio pure io, eh, sbaglio pure io, ma ci metto la faccia quantomeno. Comunque il mio voto a questo mercato, ragazzi, con i prestiti ecco, eh ci siamo liberati, prestiti secchi, vi ripeto, che fra un anno ci torneranno sul gruppone con i loro ingaggi, più in più avrai chiesa. Quindi anche per questo, anche per questo che non sei riuscito a cedere questi giocatori perché allora a questo punto potevi farlo anche l'anno scorso, il mio voto al mercato sarebbe stato 4,5 senza chiesa, 4 con chiesa, però con delle eccessioni perché Costa posso accettarlo se tu me lo cedi, ma se lo dai in prestito secco, no. Gli unici che posso accettare che possono dare in prestito secco sono Piazza, perché è infortunato, che torna dagli infortuni. Posso accettare Caviglia, ecco, ma neanche Pellegrini lo posso accettare perché Pellegrini l'hai preso l'anno scorso facendo uno scambio folle con Spinazzola e anche lì molti, eh ma no, ma Pellegrini di qua di là poi sono gli stessi che quest'anno danno addosso Pellegrini che non giocherà mai con la Juventus. Pellegrini evidentemente è stato solo una questione di plus valenze, non discorsi di campo, come lo stato cancello Danilo, che cancello il caglio in testa a Danilo, ve lo ripeterò sempre. Adesso non gioca semplicemente perché è infortunato a City, comunque, giusto per chiudere la parentesi, Danilo gioca da noi semplicemente perché siamo una squadra del cazzo a livello europeo, bisogna dire le cose come stanno. A livello europeo non siamo competitivi, punto. Quindi Agnelli, possiamo ufficializzare questa cosa, Andrea Agnelli dopo Juventus-Lione ci ha preso per il culo. Ieri sera ho fatto gli elogi giusti su quel discorso di Juventus-Napoli, però dopo Juventus-Lione ci ha preso per il culo, punto. Perché questo non è un mercato, ma neanche in ottica, perché io posso dire, in prospettiva, mi prendi un giocatore, posso dire, vabbè, in due o tre anni mi costruisci una squadra da Champions, neanche in ottica Champions, neanche in prospettiva di due o tre anni posso dire che hanno messo le basi, perché quando parlo di progetto parlo anche di basi che bisogna mettere all'inizio, però. E le basi per costruire una squadra che possa competere a livello europeo, ok, in due o tre anni, per me quest'anno, poi magari il prossimo anno fanno chissà quanti acquisti, però quest'anno non sono state messe queste basi qui, ok, e dubito che lo faranno anche più avanti. Io, lo ripeto, l'ho detto qualche settimana fa, io fossi in Andrea Pirlo mi dimetterei domani, perché questo per me non è il mercato che voleva. Chiesa per me non è stato un giocatore che ha chiesto lui. Lui ha detto, prendetemi un attaccante anche a basso costo e quant'altro, ma voglio che spendiate per il centrocampista, e per il centrocampo, 3 milioni e mezzo sono stati spesi per il centrocampo quest'anno, perché McKennie 3 milioni e mezzo di fatto. Il mio voto al mercato a Juventus è 3 e mezzo, ok? Buonasera a tutti e sempre comunque fino alla fine. Forza Juventus!